Salve a tutti, sono il dottor Osvaldo Viantorno e sono qui in sede di questo congresso del dottor Fabrizio Spallaccia a presentare la nostra azienda Shedir Pharma SRL, è un'azienda italiana con sede a Piano di Sorrento e l'azienda vanta più di 10 anni di storia nella ricerca e dello sviluppo di prodotti nutraceutici e medical device quindi come principale attività noi sulla nutraceutica effettiamo degli studi che poi ottengono dei brevetti ministeriali questo perché serve sempre a tenere vicino il territorio e i pazienti soprattutto passando dal medico curante che ha innovazioni sul prodotto e miglioramenti sia per quanto riguarda la medicina preventiva che la medicina canonica noi quindi ringraziamo il dottor Spallaccia e siamo qui a Terni proprio per ringraziare il dottore e soprattutto si spera sempre che eventi di questo genere migliorino sempre per la prospettiva futura della medicina grazie grazie